ha 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 ok ma che cura? mia città cosa è? ahahahahah ahhh, lei io c'è da come mi ha detto oppa oppa ahahahah Hangodd lesakkole Non ho avesso Kigek... ahaha ahahahahahh compañeri buonasera erano Valla nessuna taba saluta a 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